La decima edizione ma anche l'ultima del meeting internazionale Cercatori della Verità all'appuntamento con la cultura organizzato dall'associazione Cortesveva è pronto per ripartire. Dal 12 al 30 ottobre la città di Andria aprirà le porte ad ospiti di Primissimo Piano, quali Roberto Formigoni, Pino Scaccia, Emilio Fede, Roberto Gervaso, Marco Baldini e molti altri ancora, che si confronteranno sul tema Vivere Social con il mondo a portata di click, dialogo tra uomini sconnessi ed iperconnessi. Contenuti e calendario degli incontri sono stati svelati nel corso della conferenza stampa che si è svolta a Roma nella biblioteca della casa di Luciano De Crescenzo. Il meeting Cercatori della Verità è un evento che arricchisce la programmazione culturale della città di Andria, ha spiegato l'assessore alla cultura Antonio Nespoli, presente alla conferenza stampa, perché contribuisce in misura sostanziale alla crescita della conoscenza e sollecita tutti a fare riflessioni sui temi di più stringente attualità. È un evento ormai che caratterizza la programmazione culturale della nostra città, arricchendola e qualificandola, perché la presenza di ospiti importanti consente alla città non soltanto di avere una visibilità, ma soprattutto consente anche l'approfondimento attraverso questi ospiti di tematiche importanti che naturalmente contribuiscono a migliorare il livello qualitativo culturale della nostra città, dei nostri cittadini. A proposito di tecnologia, connessi e iperconnessi, De Crescenzo, considerato il maestro della comunicazione, ha spiegato ai presenti quando e come ha imparato a comunicare. E ancora oggi non ama il telefonino, preferisce comunicare di persona. Io all'inizio ho conosciuto bene una signorina che aveva una qualità importante. Lei era ignorante, quindi quando scrivevo qualcosa, io la facevo leggere prima a lei, se lei la capiva allora andava bene, se non la capiva dovevo scriverlo un'altra volta. Questo è stato il segreto, primo, il telefonino? Lo utilizzi? Veramente, non lo so. Cioè, perché non lo so? Perché non lo considero un amico, non considero un amico il telefono. Cioè, se dovessi parlare con te, preferirei sempre farlo da vicino e non a telefono. Quindi è quasi un nemico. Si chiamarono finita la guerra. Questa è la vita. Questa è la vita. Grazie.